Nonostante volessi tutto il mondo fuori, lui era con te, accullati i tuoi guerrieri dopo ogni battaglia. Nei momenti più belli era sempre al tuo fianco, con lui anche la febbre era una tiepida carezza. Quando il tuo mondo lontano diventò vicino, era con te. Ti sei fidata di lui quando nessuno sembrava capirti, l'hai torturato e non ha fatto una piega, ha aspettato con te chi non sarebbe mai ritornato. E tutto questo Dorelan lo sa e nei suoi materassi mette tutto l'amore, la ricerca, l'esperienza e la qualità di cui hai bisogno, sempre.